ciao andiamo a testare il seguito cazzo delle volte voglio buttare dentro la terza dio buono mi è troppo lunga oh dio dio da quale fornette sandro c'è una bella spalletta da noi il fiume ti ammazza perché i sassi sono grossi non solo il fiume è giusto è il guidato che è qui secondo me e se c'è qua era bagnato vengo premuto a lei si 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 ma io mi diverto Grazie a tutti. 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 Cazzo faccio. Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. Ok. Ok.